6.000 bambini, 60 scuole, 10 settimane, un sogno. Io non ero convinta di questa gara, ma poi ho deciso di partecipare. Vedremo come andrà, io non sono competitiva. Oddio! Realizzeranno punti se manterranno una postura di danza corretta. Credo sia di più che imparare una sequenza di passi. Ci tengo a partecipare a questa gara. Avanti! Fantastico il movimento cubano, voi siete il massimo! Non sapevamo di dover ballare con i maschi. Sai cosa odio? Le femmine. Poi fanno sempre... Sono sicura che i maschi pensano alle femmine. Chi ti piace della classe? Marissa! Ah sì, è così carina! L'anno scorso c'era un bel trofeo e non abbiamo vinto, ma quest'anno voglio quel premio. Benvenuti ai quarti di finale. Credo sia facile. Io non credo. Ci avevano assegnato una nuova partner. Sembrava un'adulta. Scuole pubbliche 64 e 1 vanno in semifinale. Bravi, va tutto bene. Fate un bel respiro profondo. Avete fatto tutti un ottimo lavoro. Sono davvero fiera di voi. Con altri tre punti ce la possiamo fare. Non capisco cosa sia successo. Se continuiamo ad ottenere punteggi così alti, arriveremo dritti in finale. Ma il mio bello preferito è il merengue. È proprio bello. Lo faccio solo per i ragazzi. Gli dico forza, vedrete, ce la potete fare. Non ci sono secondi, non ci sono terzi. C'è solo il trofeo dei campioni. Siamo tutti in ballo. T-A-N-G-O Ragazzi, dove bisogna guardare nel tango? T-A-N-G-O